Roma Olimpica ha dato un megafono elettronico ai vigili, è l'ultima trovata del sindaco per risolvere o complicare i dubbi degli automobilisti lungo le strade di maggior traffico. Assistete voi stessi all'esperimento. Scusi per andare all'Eur. Avanti a sinistra la via Olimpica, in fondo, viale dei gladiatori, piazzale Claudio. Sempre avanti. Scusi per andare all'Flagio Olimpico. Sì signore, sul lato destro, lungo Devere a Ponte Risorgimento, portarsi su Veali di Piano, Ponte Flaminio.